Per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol sapere di più questa notte di Mariano Loiacono, che è un medico, un psichiatra che opera sul territorio, ha scritto tanti libri, verso una nuova specie, disagio diffuso, salute e comunità globale. Che vuol dire verso una nuova specie? Quale sarebbe questa nuova specie? Sì, significa interpretare il disagio di oggi, che è molto diverso da quello interpretato dalla psichiatria tradizionale, come fatto di crescita. E' un travaglio che può portarci a fatti inediti, a qualcosa anche di profondamente mutato, ecco, il senso di nuova specie, qualcosa di più intero rispetto a quello che è l'uomo. Quindi qualcosa è cambiato rispetto ad un passato recente e non recente? E' cambiato molto, io ho vissuto fino a 14 anni nella cultura contadina, che era organica, il mondo di oggi è cambiato moltissimo, c'è stato un mutamento antropologico profondo. Lei è nato in provincia di Foggia? Sì. Poi hai studiato qui a Roma, al Gemelli, si è laureato? Sicuramente a Troia, il paese in cui sono nato. Quanto dista da Foggia? 20 chilometri, c'è una bella cattedrale romanica con un bellissimo rosone, esce anche nei libri d'arte. Poi hai studiato qui a Roma? Sì, al Gemelli, mi sono anche specializzato. In psichiatria. E suo papà lavorava nelle strade, faceva il cantoniere. E sua mamma? Sono molto semplice, io fino a 7-8 anni abbiamo vissuto 5 persone in una casa di 15 metri quadri, senza acqua, né fognatura, eccetera. Ho usato un'esperienza popolare molto intensa. E come mai poi hai deciso di venire a studiare a Roma, al Gemelli? Ma per caso, volevo approfondire queste tematiche e dovevo iscrivermi. Allora non c'era psicologia, si poteva accedere attraverso filosofia o attraverso medicina. Fui consigliato di fare medicina. Visto che c'era il concorso qui al Gemelli, ho partecipato e sono stato preso. C'era un concorso selettivo. Quindi lei sin da giovane voleva fare quello che fa? Sì, sono partito dal mio disagio personale. Ho cercato di interpretarlo non alla luce medico-psichiatri, ma come nuove domande che si ponevano alla mia vita e che poi, prima o dopo, sarebbero state delle cose generali, come poi è avvenuto. Disagio personale, dice lei. Quanti anni aveva? Nel 66, 18 anni. Aveva un disagio? Fese un terzo liceo. Che tipo di disagio avvertiva? Ero molto bloccato, quindi non riuscivo ad esprimermi. Tant'è vero che in quell'anno non ho studiato, fui anche bocciato a scuola, perché lui mi si approfondì un po' la Bibbia, la psicologia. Cercavo delle risposte. Questo mi ha portato fino ad allora a capire che il mio disagio era una questione di codice. Può sembrare un argomento astratto, invece non lo è. E come si interpreta la vita, come la si conosce, come la si traduce in un sistema. Sistema di comportamenti, di valori. E ora quelle risposte che lei ha cercato per tanto tempo, cerca di farle trovare ai suoi pazienti. Certo. E che fa ora lei? Io dirigo un servizio, un centro di medicina sociale per alcol dipendenza, farmacodipendenza e disagio diffuso dell'azienda ospedaliera di Foggia, ospedaliera universitaria. Il primo centro in Italia che tratta il disagio diffuso, una categoria che ho introdotto anche io. Disagio diffuso. Quando si parla di disagio diffuso, di che parliamo? Parliamo per esempio di tutti gli stili di vita che vivono per opposizione o per contestazione, delle dipendenze varie, da sostanze legali e illegali. Di questa dismaturità, questa genericità, questo sentirsi uno nessuno e centomila, fino ai fatti psicotici, sono i fatti di frantumazione. Poi si possono esprimere in forme di depressioni, deliri, attacchi di panico, disturbi dell'alimentazione. Questo è il discorso che la psichiatria tende ancora a vederli in maniera settorializzata. In realtà, se si legge anche il disagio giovanile, in questo libro ne ho parlato, lì sono nate queste quattro fasi, quattro stazioni del disagio, che oggi sono alla portata di tutti, anche di uno che ha 60 anni. Questa è la novità. Insomma, ciò che è successo ai giovani è stata una storia che è diventata metastoria, cioè qualcosa che adesso è diventato un percorso per ogni persona. Si viene fuori da tutto ciò, secondo lei? Io lavoro per questo perché se sono uscito fuori io, sono molto appassionato nelle storie delle persone. E oggi è come se questi 36 anni che ho lavorato prima, prima degli eventi, adesso penso che sia un metodo che possa aiutare tutti, come in realtà avviene, vengono persone da varie regioni. Chi sono i suoi pazienti? Sono persone che hanno dipendenza. Come età si può andare da 16 a 17 anni fino a 65-70 anni. Il disagio diffuso significa che è attagliato trasversalmente le fasce d'età, i cedi sociali. Il diffuso quello vuol dire. Il disagio significa che ci siamo allontanati da questo programma che portiamo dentro di noi, perché viviamo in una modernità che non permette di poter vivere e sviluppare alcune parti nostre. Ecco perché ci vuole una visione antropologica, non solo medico-psichiatrica, che probabilmente è anche datata. Come è stata la sua infanzia, dottore? Beh, molto sofferta, molto sofferta sia al punto di vista economico. Quindi io per studiare ho potuto fare medicina perché ho vinto il presalario, se no non sarei mai diventato medico. E lei era povero, diciamo povero quasi. Sì, insomma diciamo molto modesti. E un papà abbastanza violento. Violento che vuol dire? Beh, insomma, ci sono state delle scene a cui ho assistito, quindi tra mio padre e mia madre, il modo in cui ci hanno anche formato. È stato un modo abbastanza repressivo. In un contesto in cui c'erano anche poche risorse, era una società molto rigida quella contadina, quella organica. Sì, ti dava delle certezze, però a scapito della possibilità di poter selezionare, di poter scegliere, di poter esprimere la propria individualità. Tutto questo ha inciso sulla sua crescita? Beh, penso di sì. Ecco, a 18 anni si è rivelato in maniera molto più eclatante, però ripeto, ho avuto la fortuna di non medicalizzarlo, psichiatizzarlo. E' questo che oggi faccio con le persone. Da me vengono persone da varie parti d'Italia, con 8, 9, 10 anni di uso di psicofarmaci. Perché attualmente la strategia dominante a livello mondiale è quella di trattarci come macchine chimiche che siccome ci manca qualcosa, occorre sostituirlo con altri prodotti chimici che vengono dall'esterno. Invece non è così secondo lei? No, io provo da anni, sono 26 anni che lavoro nell'azienda, quindi provo da anni a trattare le persone senza sostanze psicoattive. Perché anche l'alcol è come uno psicofarmaco. E allora chi viene da noi con psicofarmaci, trattato da anni, togliamo gli psicofarmaci e dimostriamo che può produrre lui le sue sostanze attivando una dinamica di vita. Il metodo alla salute è una dinamica di vita. Penso che non sia facile cogliere quello che avviene perché bisognerebbe sperimentare, possono sembrare parole, però sono fatti che avvengono. La nostra medaglia d'oro, la persona che da più anni prendeva psicofarmaci e una signora da 37 anni prendeva psicofarmaci. Sono 10 mesi e sta bene. 37 anni significa che lei da 24 a 61 ha preso psicofarmaci. Non mi sembra un rimedio questo. 18 anni lei si iscrive all'università, quindi lascia la sua zona d'origine, la sua troia vicino Foggia e arriva proprio qui a Roma. Poi? Era bravo all'università, a scuola? Sì, o ero bravo o se no, perché se no perdevo il presalario. Quindi ho fatto una vita molto sobria. Quindi necessità virtù, come direbbe qualcuno. Sì, ho potuto anche specializzarmi qui a Folliclinico Gemelli, professore Ancuna. Dopo avevo avuto un'offerta per restare nel mondo universitario, però mi sarei stato conto che era un mondo abbastanza rigido, un mondo in cui per poter esprimere delle cose nuove bisognava aspettare 60 anni, quando il maestro, chi stava prima, aveva espresso le sue... Sì, un po' ribellato tutto questo. Un po' ribellato. Ho capito che dovevo tornare indietro, anche perché c'erano degli affetti in tanti, c'era mia moglie, che era molto legata, mia moglie era la mia fidanzata, e sono tornato a Foggia, dove io mi sono trovato all'inizio malissimo, perché io avevo tutte queste voglie, chissà, di fare cose nuove. Io mi sono trovato in un ambiente molto medico, molto tradizionale, che è anche giusto, diciamo. Però lì è stata una fortuna, perché grazie al primario dottor Scelitani ho avuto una libertà di poter sperimentare cose che sono un po' deliranti. Delirio significa fuori del solco, perché lira in latino significa solco, quindi queste cose che facevano un po' fuori del solco. Quindi lei era considerato un po' delirante? Sono ancora considerate, perché se adesso un collega sente questo, anche se io lavoro in una struttura pubblica, un'ospedale universitaria, basta che dici che tolgo gli psicofamici, che metto insieme. Questa è un'altra novità. C'è un alcolista come un tossicodipendente, ma per esempio un depresso, un attacco di panico, un down. C'è varie espressioni di vita, perché il problema è un problema di vita, non è un problema di maschera con la quale uno arriva. Tant'è vero che anch'io mi sento persona in trattamento. Persona significa appunto maschera. Persona perché amplifica queste parti profonde che sono nascoste. Quindi lei non è stato accettato, mi sembra, di aver capito all'inizio. Sì, ho avuto molte difficoltà nell'azienda, c'è stata anche la persona che mi ha invitato, anche della direzione, però a livello di colleghi trovo ancora molto difficoltà. E ora? E ora, da 15 anni, ho avuto un incontro importante con il professor Piazzi, poi lo vedremo. E' una persona, lui è un ordinario di sociologia sia a Bologna che a Urbino. E lì, grazie alla mia esperienza con le tossicodipendenze, al primo libro che scrissi, Droga, drogati e drogologi, ha accolto questa visione antropologica che stava su. Quindi dal suo ambiente lì a Foggia ora è più accettato. Poi è sempre considerato un po' delirante. Ma dei miei colleghi, proprio nel settore, penso di sì. Un po' strano, chissà che... Per fortuna posso lavorare in questo laboratorio, abbiamo costituito con l'Università di Urbino un laboratorio di antropologia del mutamento. Facciamo anche dei corsi universitari, perfezionamento. Quest'anno sta per chiudersi uno con 40 iscritti, molto interessante, da varie parti d'Italia. Cioè, anche se questa energia è molto debole, molto debole, quindi in panorama dominante, che è dominato dalla psichiatria americana, che è ovviamente chimica. Ora, persone che passano 10-15 anni solo a cambiare farmaci, io quel mestiere non lo farei. Forse sono rimasto abbastanza contadino. Cioè, se qualcosa non produce, vedo cosa devo fare. Così è nato un po' la mia... Io prima le chiedevo se per vivere ci vuole coraggio. Aggiungo, per vivere ci vuole coraggio, incoscienza o ottimismo? Ci vuole coraggio, incoscienza e ottimismo. Più che incoscienza, io chiamo solidarietà. La solidarietà non è come ci insegnano in chiesa a dare qualcosa di più. Significa fare per primo ciò che gli altri ancora non vogliono, non possono, non sanno fare. Io penso che ho avuto solidarietà. E ancora adesso cerco di essere il primo a fare le cose. Non ha mai deciso di lasciare Foggia e di andare da qualche altra parte? Alcuni anni fa, sì. Poi ho capito che dovunque era la stessa cosa. Mentre a Foggia ho trovato delle condizioni di minor controllo per poter fare cose nuove. Adesso sono cose accettate. Queste cose fatte altrove non avrei potuto farle. E poi c'è un ambiente ancora permeato da queste tracce della cultura contadina e quindi organica che sono iscritte dentro di me e che sono state anche espresse nel metodo. Ecco, lei dice cultura contadina che è scritta dentro di me. Che vuol dire? Beh, è scritta dentro di me per due motivi. Perché io, la parte mia più importante dell'infanzia e dell'adolescenza sono stato formato dall'utero contadino che è un utero molto efficace. Formava le persone che a 18 anni erano in grado di andare in America, di girare, di affrontare la vita. Oggi a 40 anni stiamo ancora... Stiamo ancora... Quindi meglio ieri che oggi, sta dicendo? No, ho detto che funzionava per questo. Ho detto che è una società molto piena di sofferenze. È perché la cultura contadina rispettava di più quel programma che abbiamo dentro di noi. Oggi c'è il paradosso che con la cultura globalizzata, fondata sul valore di scambio, quindi sul capitale sostanzialmente, tutto è mercificato. Sì, abbiamo un emporio anche di possibilità umane ampio, però il nostro programma per vivere non è totalmente espresso, anche perché poi si spiega il disagio. Il disagio significa allontanarsi. Ma lei dice che ognuno di noi ha un programma? Il programma della vita significa qualcosa che è scritto prima, questo significa. È scritto prima, cioè noi quando nasciamo, nella gravidanza, 4 miliardi e mezzo di anni di storia della vita vengono in maniera metastorica, in appena nove mesi, vengono tradotti dentro di noi. Il suo programma qual è? Il programma è quello di sottomettermi... Lei è nato con quale programma? Visto che ognuno di noi ha un programma. No, ho detto che programma intendo qualcosa che è scritto prima, che sta dentro di noi, che dobbiamo esprimere. E lei che ha capito del suo programma? Eh no, ognuno di noi deve esprimere un'identità, quindi deve esprimere anche una possibilità di andare verso cose nuove, deve esprimere un percorso che permette di trascendersi. Trascendenza non è un fatto spirituale, significa transscan, salire, scendere, andare al di là. Senso del viaggio. La vita è un viaggio essenzialmente. Ora, il mondo di oggi ci fa viaggiare più nel virtuale che nella vita, questo è il problema. Questo è il problema. E noi invece, attraverso questo laboratorio di mezzo della salute, cerchiamo di dare di nuovo protagonismo alla vita, ma a ogni tipo di vita. Chi viene lì, la persona in trattamento, anche io mi reputo persone in trattamento, dall'inizio è anche uno che ha delle parti da dare agli altri. Quindi è un concetto un po' antico e nuovo, secondo me, per un sapere scientifico che si è molto allontanato dalla vita. Come pensa sia stata sinora la sua vita? La sua vita? È contento, sereno, tranquillo, soddisfatto. Molto pesante, è vero che mia moglie è stata bravissima.